È stata veramente una grande tristezza, oggi è un giorno davvero triste e sono davvero molto vicina a tutte le studentesse e gli studenti della Cattolica, ai docenti, al personale tecnico-amministrativo e come ho detto davvero perdiamo un collega di un'intelligenza raffinata, ironico, ma che soprattutto nei momenti, io ho ricordato quello della pandemia perché è davvero stato un momento molto difficile per tutti noi, in cui lui davvero ha dato un apporto anche di serenità in momenti complessi. Quindi davvero poi quando c'è l'ironia uno non pensa che una persona possa anche avere dentro un mondo complesso e pesante perché l'ironia spesso è un'arma che ci protegge dalle difficoltà o dalle tragedie che ci circondano, evidentemente qualcosa che nessuno può comprendere è scattata a lui. Quindi io sono qua davvero a rappresentare tutto il sistema universitario, siamo tutti davvero molto colpiti da questa vicenda che ovviamente è personale, è privata, siamo vicini alla sua mamma, alla sua famiglia, a tutta la comunità e quindi io davvero sono qua ad abbracciare tutti gli studenti da parte di tutto il sistema universitario.